Querella autostrada a Catania e Ragusa, entro metà febbraio la decisione. Riflettori puntati al prossimo incontro del Cipe che dovrebbe tenersi entro i primi 15 giorni di febbraio. Nel corso di quella riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica si dovrebbe avere un orientamento definitivo sulla Catania e Ragusa e sulle questioni ancora non risolte che riguardano l'accessione del progetto esecutivo dell'Arteria dalla concessionaria Sark di Torino all'ANAS. Una questione che era già stata affrontata dalla delibera del Comitato del 1 agosto scorso che è stata pubblicata solo mercoledì in Gazzetta Ufficiale. Nel decreto si prevede il passaggio ad ANAS al punto 6 in attesa della costituzione di un'apposita società di scopo tra Governo e Regione Siciliana con capitale interamente pubblico che rilevasse il progetto in questione. Il Cipe, si legge infatti nella delibera, non ritiene maturo al momento approvare il cambio di soggetto a giudicatore anche in considerazione della richiesta della Regione Siciliana di partecipare alla società pubblica, la società di scopo e che pertanto, non essendo possibile operare ora una scelta definitiva, viene rimandata al primo Cipe utile la decisione sul cambio di soggetto a giudicatore al fine di poter verificare concretamente la possibilità di creare in tempi brevi la società di scopo fra ANAS e Regione Siciliana o Consorzio Autostrade Siciliane, ipotesi preferita dalla Regione Siciliana oppure di effettuare il cambio del soggetto a giudicatore in favore della sola ANAS come previsto dall'attuale accordo SARC-ANAS al fine di permettere a quest'ultima di acquisire il progetto con tutti i suoi pareri e autorizzazione velocizzando l'iter approvativo del progetto definitivo e rimandando a un secondo momento la costituzione della società di scopo. Oltre al cambio di governo nazionale che nel frattempo è intercorso, ad agosto ci sono anche alcuni passaggi da chiedere su questo tema. Il primo riguarda la natura della cessione del contratto tra un soggetto privato, la SARC, da un ente come l'ANAS. Il secondo riguarda gli appunti dell'autorità nazionale anticorruzione che ha sostenuto la necessità di bandire una gara per evidenza pubblica europea anche per l'acquisizione del progetto definitivo redatto dai tecnici della SARC. Il governo nel decreto mille proroga ha previsto un possibile affidamento ad ANAS delle concessioni autostradali, specie in vista delle decisioni che il Consiglio dei Ministri potrebbe intraprendere sulla revoca delle stesse.